Ecco a tutti il nostro amico Francesco. Francesco si è operato il 5 agosto 2011 qui a Napoli dell'Ustria di Argano e fece la sua testimonianza il mese dopo, quando hai fatto l'ultima testimonianza? Settembre. E ci disse come era andato il suo intervento, infatti la sua videotestimonianza è il suo sito e poi ci disse che ci avrebbe continuato ad informare sulla sua situazione. Quindi Francesco, come sono passati sei mesi? Stavo molto, molto bene, molto, molto bene, se non quello normale che abbiamo tutti, cioè il sudare. La stanchezza magari la sento comunque, però credo che sia normale. La senti come prima dell'intervento? Dipende da ciò che faccio, da come lo faccio, da quanta intensità mettono i movimenti, dipende da tantissime cose, anche da quanto affollamento c'è, dove vado. Un conto è se vado per prati, un altro conto è se vado ai concerti. Chiaro, come tutti tra l'altro. Esatto. I benefici che tu hai ottenuto, che a questo punto sono abbastanza stabili, dopo sei mesi, quali sono? Che non vado più al bagno, tanto spesso, insomma, vado le dovute delle volte al giorno. Quindi non hai più urgenza? No, non ho assolutamente più urgenza. Non ti scappa più, diciamo così. Esattamente. E per quanto riguarda gli spasmi, tu mi dicevi l'altra volta che avevi ancora un po' di spasmi, sono scomparso o ci sono ancora? Direi sono quasi scomparsi, ce li ho sempre un po', però è una cosa molto debole in confronto a prima. Invece la triangulazione? Dipende dal tipo di movimento che faccio, cammino vado normale, però se mi devo spostare velocemente, devo andare velocemente verso destra e poi verso sinistra, tendo un po' A più di difficoltà. Questa situazione era presente già prima dell'intervento? È stata sempre presente. È stata sempre presente. Quindi non hai notato un grande miglioramento in questo? No, però un po', diciamo. Un po' è migliorata la situazione? Un po' ma è migliorata. L'equilibrio? L'equilibrio anche, è sempre un po', è tutto un po', però è stato così, insomma. Quindi hai notato tanti piccoli miglioramenti? Sì, è un po' che, almeno per quanto mi riguarda, è un po' moltissimo. È un po' o è moltissimo? No, è un po' moltissimo, nel senso che magari per alcune persone possono essere piccoli passi, però per me sono piccoli passi molto importanti e molto grandi. Senti, vuoi dare qualche consiglio a chi ti sta ascoltando? Credete in quello che fate, in quello che dovete fare e quello che volete fare soprattutto, perché persone molto serie, per quanto mi riguarda, dottori molto seri. Parli di noi? Sì, molto seri nel senso, nel campo medico sanno quello che fanno e sanno quello che dicono, però ti trattano benissimo e scherzano, è sempre uno scherzo, insomma, è tutto quello che fanno. Senti, Francesco, tu fai fisioterapia? Dovrei, spero, più presto di rincominciare. Perché la situazione a Roma, com'è? È molto bloccata, a meno che ci va a pagamento, però tanto ormai è quasi tutto, se non tutto a pagamento, quindi, diciamo, va bene così. Francesco, allora aspettiamo di nuovo i tuoi aggiornamenti tra sei mesi al prossimo controllo. Va benissimo. Grazie, ciao.